salve a tutti viste le numerose richieste non potevo esimermi dal fare questo video e magari qualche altro successivo perché a quanto pare sto facendo un torneo omologato quindi con variazione elo a tempo lungo e si tratta del torneo provinciale di pistoia che si tiene proprio al circolo scacchistico pistoiese questo come saprete è un evento abbastanza raro perché non faccio quasi mai torneo a tempo lungo proprio per problemi di tempo e altre cose non solo per via del canale e di fatti c'è proprio uno scopo preciso nel fare questo torneo è quello di prendere finalmente l'elo fide avevo già una tranche vide fatta due anni fa proprio in questo stesso torneo abbastanza buona e prima che mi scada mi sono dato una mossa e ora sto cercando di farcela il problema è che mi serviranno quattro partite contro elo fide per poter completare la tranche da nove sono sempre col vecchio regolamento perché la tranche era d'inizio 2014 quando non è ancora state cambiate le normative recenti ok questa prima partita la gioco contro alessio che è uno degli ultimi arrivati al circolo e che abita a lamporecchio piuttosto anche fuori città quindi onori a lui che tutti i venerdì si fa la strada per arrivare fino a pistoia solo per giocare con noi è un non classificato ma come vedremo dimostrerà di saper dare del filo da torcere eccoci quindi qua gioco con il nero e si inizia nel più classico dei modi almeno per me e 4 c6 quindi difesa caro can ora magari in futuro potrò anche cominciare a giocare altro perché mi sto rendendo conto che con questo tipo di difesa spesso mi trovo in posizioni un po troppo posizionali chiuse passive siccome c'è questa tendenza già di mio usare una apertura che tende a questo diciamo come un po tirarsi al sapato sui piedi ok pochino non proprio comune questa cavallo f3 comunque nero la spinge al centro chiaramente avendo preparato con c6 e qui di solito viene giocata cavallo c3 con quale idea sembra quasi invogliare nella spingere d4 in questo caso non è stata giocata questa variante in partita il problema che ha questo piedone un po ingordo che attacca il cavallo sembra guadagnare un tempo è che è un bel problema difenderlo dopo questo cavallo e 2 nero deve difendere in qualche modo per esempio la spinta c5 ma c3 si apre nuovi varchi per lo sviluppo del bianco inoltre mina in modo irreparabile questo pedone diciamo non può venire spinto perché poi comunque attaccato e preso quindi magari difenderla ancora con il cavallo non è sufficiente perché dopo questi cambi c'è donna a4 ora non c'è proprio niente da fare notare anche che è impossibile sostenerlo col pedone e perché prima era in presa se lo si fa ora il pedone può essere comunque preso perché il cavallo è inchiodato sul re ok comunque niente di tutto ciò viceversa qui alessio spinge in e5 e si rientrerebbe una specie di variante di spinta sulla carocam però senza il pedone di 4 quindi qui mi appresto a sviluppare prima di chiudermi la struttura pedonale così l'alfiere campo chiara che è sempre un problema viene portato fuori dalla catena pedonale di 4 e ancora forza il centro e 6 classica ora l'alfiere fuori si può chiudere la porta ok fare due schioda al cavallo mossa di sviluppo e qui avendo già mosso questo alfiere non può permettersi un po più a cuore leggero di spingere in c5 cercano di minare questo pedone perché anche se bianco vuole sfruttare questa possibilità di scacco in chiudature dovrà rimuovere ovviamente l'alfiere quindi un altro tempo perso dal bianco per fare questa manovra ok ben difeso con c3 classica un cavallo c6 aumenta gli attacchi sempre su questo punto cavallo bd2 deve trovare un modo per sviluppare questo cavallo visto che la casa c3 è occupata ok qui forse strategicamente per avere gioco un po meno passivo non va a giocare c per di dopodiché il bianco può anche catturare col cavallo vista la minaccia di scoperta su questo alfiere evidentemente in questa variante cambiato dopodiché il nero può cambiare cavalli e eventualmente in futuro pianificare attacchi sulla colonna c visto che il bianco è arretrato nello sviluppo dell'alfiere camposcuro in realtà in partita giocato più passivo nel senso vogliamo stare tranquilli stiamo tranquilli giochiamo c4 pedone molto avanzato che da un po pamper focaccia al pedone 5 del bianco però molto meno pericoloso rispetto al pedone 5 a questo punto il piano del nero abbastanza chiaro spinge tutto il possibile contro il lato di donna il piano del bianco sarà viceversa attaccare il mio lato di re tra l'altro ancora se di problemi arroccare con tutti questi pezzi fermi e difatti manovre del genere ritardano ulteriormente l'atta e lo sviluppo del nero si prosegue un h3 un alfiere viene scalzato cavallo h2 forza in qualche modo il cambio di questo alfiere io lo accetto volentieri rimuovendo l'alfiere buono del bianco per il mio alfiere cattivo tuttavia ora sono un po ritardo di sviluppo devo cercare di colmare e anch'io problemi a sviluppare in fsa proprio per questo pedone ok il bianco porta tutti i pezzi verso il lato di re giustamente e finisco di sviluppare mi riapro la via questa alfiere a questo punto arrocco corto e piuttosto che qui perdono tempo a sviluppare al sera e arrocchere corto comincio già subito l'attacco che spinta prevista in b4 eventualmente mi potrei sviluppare dopo l'alfiere se il bianco cattura qui si poteva eventualmente presumere a tre ma magari il bianco poteva rinforzare l'attacco con il pedone a quindi adesso giustamente gioca b3 e attacca in qualche modo il punto debole c4 quindi qui tante scaprettate ad esempio con a5 per poi spingere in b4 non funzionano granché l'attacco del bianco su questo pedone eventualmente può giocare anche a4 per finire di minare questa piccola diagonale di pedoni quindi ho invitato di spingere giocato a6 in previsione di una futura c per b per evitare che mi rimanesse in presa b5 comunque ancora ritardo di sviluppo tolto l'alfiere della casa di partenza e qui alfiere a3 l'idea è quella di bloccare la spinta piuttosto fastidiosa in certe varianti di questo pedone bianco e sviluppare in qualche modo l'alfiere si prosegue con alfiere g5 ora abbiamo cominciato a essere un po pericoloso con tutti questi pezzi verso il lato di re io però semplicemente sposto la donna e insomma comincio a pregare che non succeda niente di male sul lato di re cavolo g4 altro pezzo che si fa avanti molto pericoloso e qui riporto l'alfiere indietro ora poteva anche starci h6 cercando di allontanare qualche pezzo però era un pochino rischiosa la situazione ad esempio dopo alfiere per h6 qui questo cavallo può trovare una casa buonissima in f6 e il mio re ora comincia a tremare ho evitato di fare questi rischi avrebbero richiesto un bel po di calcolo non avevo granché voglia riporto l'alfiere indietro una possibile idea eventualmente cambiare può in futuro approfittarsi di questo percorso ok per ora evita il cambio e posso arroccare a questo punto ok ora mossa molto buona da parte di aleso g3 va a bloccare sia questa iniziativa del cavallo ma soprattutto la minaccia queste spinte e se pedoni cominciano arrivare addosso al re visto che non ho granché di pezzi a difendere il mio arrocco potrebbero essere dolori ok porto la torre in b8 sempre con l'idea di attaccare sul lato di donna tuttavia mi attacco sul lato di donna non minaccio granché ora devo prepararmi a difendere perché dopo h4 l'idea è abbastanza chiara se comincio ad esempio attaccare sul lato di donna ora h5 diventa difficile a gestire devo ritirare il cavallo dopodiché h6 ora che fare chiaramente non posso cambiare perché mi apro completamente il re devo giocare g6 le case escure potrebbero ben presto divenire un colabrodo quindi interrompo questa avanzata giocando h5 bloccando il pedone chiaro che ora si indebolisce un po' l'arrocco devo stare molto attento il cavallo si ritira idee future per il bianco di attaccare g5 ad esempio con questa mossa di cavallo quindi mi preparo ritiro il cavallo l'idea poi vedremo sarà riportare una h7 per cominciare a ricontrollare case scure e questo è un problema che ha il nero ora creandosi una catena pedonale sulle case chiare difatti cavallo g5 attaccata h5 lo difendo di pedone ora a donna effetti è abbastanza prevedibile l'attacco con minaccia di matto su ora non proprio matto perché il cavallo difende ancora ma comunque con la donna messa così c'è forse probabilmente c'è pure il matto però vabbè non posso permettere alla donna di entrare dentro quindi fu fuori prima il cavallo e ora questo sembra un grosso problema perché con questo alfere campo oscuro e tutti questi buchi sulle case scure il nero potrebbe trovarsi veramente ad affrontare sei problemi però per fortuna c'è cavallo h7 ora l'alfere o se ritira o come in partita viene giocata in h6 con idea poi di sfondare spingendo in g5 per fortuna o il backup a questa iniziativa cavallo e 7 che minaccia cavallo f5 con due effetti come vedremo si attaccare l'alfere che blocca l'iniziativa della donna e di fatto il bianco spinge per riaprire l'attacco ma non è sufficiente perché dopo h per g4 nonostante il cavallo si faccia avanti molto pericoloso non c'è molto da temere perché la donna viene tagliata fuori tratto con attacco su alfiere l'altra possibilità potrebbe essere catturare di donna eventualmente spingere h5 per aprire la colonna g ma anche in questo caso non funziona perché il cavallo minaccia cattura su alfiere e attacco su donna quindi guadagnando un tempo ok cavallo per g4 chiudo l'alfere attaccato lo vuole mantenere per mantenere il predominio sulle case scure lo porta in g5 eventualmente un'idea potrebbe essere spingere in h5 per riaprire la colonna g qui avrei potuto anche cambiare l'alfiere h per g e spostare in g7 poi fare entrare le torri ma ho deciso di spostare il re in f8 evitando lo scacco in questa posizione che è difatti è proprio quello che succede cavallo f6 non sono costretto a gestire lo scacco qui e ora effettivamente posso catturare l'alfiere viene ripreso e cosa succede questo cavallo effettivamente sembra molto minaccioso ma in realtà si può stare abbastanza tranquilli perché ora le torri fanno presto arrivare sulla colonna h per bloccare incursioni possibili del bianco e tra l'altro è molto difficile controbattere la parte del bianco ad esempio con re g7 per portare anche le proprie torre sulla colonna h grazie a questa fortezza del cavallo in caso di re g2 c'è questo doppio quindi bianco dovrà prendere provvedimenti ok qui probabilmente la migliore era re g7 andando a sostenere torri anche con re tuttavia qui con questo cavallo così vicino e queste case d'ingresso ho avuto un po di paura e viceversa ho spostato il re in e7 sempre aprendo la solita linea nessun problema comunque bianco rientra di cavallo in g4 probabilmente per chiudere la colonna h ancora subito non è possibile perché porto subito la torre ok a questo punto solito la re g2 non è possibile sempre per via di questo doppio quindi don f4 risolve il problema ora questa mossa però è un pochino rischiosa perché effettivamente non difende più c3 ora il bianco però chiaramente è un problema che deve risolvere per aprirsi le linee per difendere sul lato di re qui effettivamente potevo prendere in b3 attaccando c3 e quindi attacco doppio il bianco deve riprendere entro di don ora la situazione però non è molto molto chiara perché qui il bianco può ad esempio giocare cavallo h6 per chiudere la colonna h dopodiché se faccio fuori un altro pedone poi il bianco prende controllo della colonna c ora non è facile gestire questa situazione perché ad esempio se ci porto una torre al primo viene cambiato il cavallo dopodiché si cambiano le torri e a questo punto g6 è una buona idea perché la donna può entrare in attacco e con queste case scure così mal andate è veramente un problema per nero che deve gestire anche una possibile ulteriore spinta pericolosa di questo pedone che comunque può aprirsi la strada sul lato di re però per evitare incursioni ci poteva stare re di sette ora qui andava calcolato che cavallo per f7 non era buona per via ad esempio di torre h4 e il bianco ora sembra alla donna quasi intrappolata unico modo portarla in d2 ma lascia sguarnita completamente l'ala di re ok diciamo non avevo idea di tutta questa variante ho semplicemente giocato la più pratica torre h4 che inchioda il cavallo sulla donna quindi bloccando qualsiasi iniziativa e eventualmente minacciando dal doppio qui si sposta in g2 ora può farlo perché ha mosso la donna ancora possibilità di giocare c per b3 ma a questo punto siamo a cavallo cavalchiamo e raddoppio delle torri sulla colonna h torre h1 prova a contrastare in qualche modo e donna sciotto questo effettivamente un po troppo lenta portare anche la donna su questa colonna effettivamente qui il bianco poteva cominciare a pensare a gestire questo problema dei pedoni prima che lo potessi sfruttare comunque viene cambiata la torre rientro con l'altra torre in h4 e ora torre h1 è abbastanza sbagliata ok qui finalmente sfrutto questa iniziativa cambio le torri porto anche il re in una posizione sfavorevole dove potrà subire attacchi ora apro la colonna c era evidente che invece di torre h1 il bianco poteva probabilmente giocare b4 per chiudere completamente l'attività della catena pedonale nera è chiaro che qui donna cotto un po spaventa perché la colonna è mia mano ma non è facile entrare perché questo cavallo è abbastanza bloccato deve parare possibili entrate del bianco e comunque non ha granché da fare supponiamo f3 che difende eventualmente da attacchi di questo tipo nero ha qualche difficoltà a fare progressi effettivamente nonostante sia leggermente in vantaggio ok comunque torre h1 è stato questo cambio e c per b è chiaro che qui il bianco non può difendere altrimenti mi creò un super pedone passato ad esempio mosse come donna d2 vedrebbero ad esempio iniziative come b per a2 chiaramente le donne sovraccarica poi entro in c3 quindi cosa ha giocato adesso chiaramente il cambio a questo punto e guadagno un pedone donna per c3 e ora la situazione capovolta perché l'attacco è per il nero minacce multiple minaccia di crearsi un pedone due pedoni passati sulla di donna e non è per niente facile difendere questo pedone quindi viene giocata un po la catena di ispirazione cavallo h6 sperando che cadessi nel treno di giocare donna per d4 nel tentativo di cambiare le donne alleggeri la posizione vincere il finale e qui il problema è che c'è cavallo per f5 scacco che rimuove il difensore della donna e da scacco io devo gestire lo scacco avrei perso la donna non ho giocato questa mossa ho catturato però l'altro pedone creandomi due pedoni passati ok ancora tentativi di rientro donna c1 per venire a disturbare il mio re questa iniziativa viene bloccata con donna c4 e ora scacco donna a3 con attacco su a6 qui era possibile giocare b4 difendendo di donna ho spostato viceversa il re in e8 che può sembrare meno efficiente però sicuramente quel bianco non può prendere in a6 per via del matto che segue mossa è forzata a questo punto re h3 non è possibile per via del matto in g3 quindi unica nell'angolo e però c'è comunque scacco matto di cavallo un'altra iniziativa potrebbe essere cambiare prima il cavallo per evitare il matto però comunque nero anche se poi perde questo pedone mantiene l'iniziativa e non dovrebbe avere difficoltà a vincere ad ogni modo viene giocata cavallo g8 con possibile tentativo di matto se questo cavallo viene spostato però a questo punto iniziativa è mia do scacco gioco proprio la variante di prima ora evita il matto andando in h1 perché questa traversa terza traversa ancora difesa dalla donna quindi non posso dare matto il problema però è che posso cambiare le donne qui donne 3 forzo il cambio delle donne dopodiché la situazione abbastanza facile anche perché questo cavallo è completamente inattivo ok torna in f6 con scacco però sposto il re ora comunque il cavallo è bloccato non ha vie di fuga l'unica attraverso g4 bloccata dal mio cavallo cambierai semplicemente poi spingere uno di questi due per una donna prova a reattivarsi ma è fuori dal quadrato del pedone non può fare in tempo il nero a bloccare l'avanzata di questo pedone effettivamente qui alessio ha abbandonato ok quindi complimenti alessio ha giocato veramente bene ci sono state poche imperfezioni mi ha fatto veramente devo dire sudare freddo avrei potuto perdere con quella forte attacco sul mio le re sul lato di re per fortuna poi ho trovato le mosse corrette per difendermi è andata tutto per il meglio ok quindi per questo video è tutto il torneo è ancora lungo ci vediamo quindi al prossimo video a presto e ciao ciao